Nell'aulo consigliare del Comune di Agropoli ha parlato il presidente di missionario dell'Agropoli Calcio, Domenico Cerruti. Seppur di missionario, dopo otto anni, ha voluto lanciare un appello per il rilancio della squadra. Il mio progetto affermato finisce qui, ma con l'auspicio che subentrino persone interessate a portare avanti la missione calcistica e societaria. Abbiamo un patrimonio di calciatori, una società sana. Siamo disponibili, insieme a Maurizio Puglisi, ma non vogliamo essere i protagonisti, bensì a dare un supporto. In tanti mi stanno condattando anche dalla Sicilia e dalla Campania, ma non consegnerò il titolo in mano a chiunque. Voglio garanzie. L'amministrazione comunale retta da sindaco Adamo Coppola ha precisato, si è già resa disponibile per non far morire la società, ma mi aspetto l'impegno di tutti per far rinascere questa squadra. La porta è aperta.